Sì, sì, certo! Dichiarà la moneta, qual'è il tuo nome? Francesco, guarda, la faccio diventare decepolata, guarda! Oh! 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 Oh, ma qui nel buono? no no ma non so la mantiene voglio provare anch'io il aliena moleca sono distante però temala un po' più in alto così immobile stringi più forte che puoi bolla d'aria qui dentro che che vuole dici? prendo, nuovo invisibile boom oh 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 ah si allora guarda, prima questa moneta la tengo in tasca l'anello lo tengo di qua in tasca che ho in realtà ma porco l'anello in tasca aspetta però ve lo rifaccio tengo la moneta di qua e ovviamente cosa in tasca? l'anello nooo 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 ancora ho bisogno di altre monete per fare questo spedimento altre marchio che tra l'altro poi ehm beh dai utilizziamo la stessa voglio solo farvi vedere sapete cos'è il teletrasporto? quando trasportate un oggetto da un logo ad un altro istantaneamente io non voglio mostrarvi nulla di particolare però solo che la moneta ovviamente non può aiutare giusto? tieni la moneta apri una mano così questa mano qua ok stringi il collo della bottiglia no no dove ho io la mano ok puoi guardare eh ti viene di qua non puoi entrare ma non lo voglio far entrare dai guardare quindi è come una bolla nooo nooo oh 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 Udai è vetro? non c'è buco è vetro? ma... è vetro? è vetro? non ha buco non ci credo ma fa è finito tutto la cosa ma no 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 mi fai favore anche impossibile cioè a cazzo le mani esistono tutte e basse la moneta è entrata dentro la bottiglia è impossibile Mutei lo stavo tenendo qua lui ma era chiuso era chiuso ma poi ha fatto vedere che non entrava è uscito anche da qua prendiamo un'etra qua dammi un attimo ma anche è impossibile è chiuso questa fra che fa così è dentro non entra fra aspetta aspetta non entra non entra fra è dentro Butei ah no si va e forse sarà pensabile mangiare un po' si Akram Samy Sam giusto abbiamo un po' di lui grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie facciamo un saluto ciao grazie mille 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 grazie mille